Ciao, io sono Luca, il tuo chef! Benvenuti al Sugo! Oggi è il giorno prima di Natale e il mio padre mi chiede di avere il cena con lui mio frate e mia sorella Chi sa cosa si prepara oggi? Non lo so, magari qualcosa di tradizionale? Proviamociamolo! Io sono il padre di Luca Questo è il cappone di Merry Christmas Per la ricetta di oggi Abbiamo bisogno di un grande cappone 400 pronti di pittata Uniretti, come i cittadini, il cuore e il cuore Uniretti, i cittadini, i salsicchi i cittadini, i cittadini e il bacone dolce Abbiamo anche bisogno di un ucchio il limone, il salto e le spezie il brandy, la città e la città il cuore, il cuore e l'alluminio E... Un cuore, una mela! Iniziamo a farla di farla per eliminare tutte le pezze Procediamo con la preparazione del cuore Per il cuore, aggiungiamo i cittadini, i cittadini, i cittadini e l'appola senza la pezzi Aggiungiamo un cuore di buccia Salto pepe nero Città 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 Con le mani Per un paio di minuti Per il cuore Per il cuore E' ben saluto E' ben saluto Il secondo passo E' ben saluto E' ben saluto Le mani Città E' ben saluto E' ben saluto Eh... Tiglò Versa la lusitana dal sbobbo Sjukiamo In inglese Partita la salsiccia del cuore A questo punto aggiungere le entrile di capone e cuocere su una nuova famiglia. Poi riuscire la famiglia e mischia con brandy. E ora facciamo il flambe. Se non ti piace le entrile per l'intensore, potete riuscire a cambiare il flambe. Molto bene! Lasciamo restare per 10 minuti. Settiamo l'ovno a 200 gradi statico. Aggiungere i salsicoli alla mixtura. E ora impastiamo con il flambe. Il flambe. Il flambe. Non lo so, perché la paletta. La marisa. La manipola. Con la manipola, impastiamo il mix. Ok, prepariamo il mix. Verdi? No. Molto bene. Molto bene. Questo è una roba intelligente. un filo con la giugia dalla spalla perché ti puoi prendere il cuore della gallina a portare la mano, ok? sempre un filo più ricordo che non mi puoi prendere il cuore a sfruggo ora mettiamo dentro la farcitura infarciamo il pulastro, il capone la dolce vita di fallini, la stessa non sembra essere molto bello a guardare ma ti garantisco che è una bomba lavori molto bene il filo di bacino per evitare i residui di burning ora vedremo il cuore capone ok capone in italia, molto grande ragazzi, mio papà ha imparato di riparare i soccoli, quindi ha la sua propria tecnica non lo segui al ma par che le direi a chiuser un par da culzette sbusa ma comunque, sto giocando, quando mio papà era giovane, ha sfruttato di diventare un cuore peggio oggi, va a mostrare i suoi sfruttori Grazie a tutti. Grazie a limonze, solo la parte gialla perché il bianco è buono. La batteria, la batteria tipica della montagna con il limonzo. Bene. Dedicata 10 minuti per lentamente massaggiare il capone con la batteria che può assorbire tutta l'essenza e diventare tender. È l'ora di seasonare con il salto e il pepe nero. Sei generoso! Lo mettiamo fuori la pancetta. Coveri tutti i capone con bacone dolce, così che il pezzo non diventa burnata. Tutti i fatti di bacone penetrano nella nostra capone e sarà un'esplosione. Buon appetito! Molto buono! Interessante! È l'ora di posizionare la ropa sul cuore e il corpo del capone. Guardate le abilità del mio padre e la tenacità del capone. È un'esplosione che la pieno della è un'esplosione che è costruita. È un'esplosione che è un'esplosione che è costruita. È un'esplosione che è costruita. Il tempo di cuocere dipende dalla dimensione del cappone, necessita circa un'ora per kg. Ah ragazzi, ricordatevi di coprire i piedi con filo di alluminio, così che non si fuggono. Non si fuggono il cappone con il cappone, così che mantenga tutto l'aroma. Lo spago. It seems to be in the Po Valley with all this thick fog. Admirare il sentimento bello, che parfum, non hai idea. We taste it! Wow! Come si dice la coscia? Il garon! Il garon! La coscia! Wow! Uh! Che buono! Guarda qua! Senti che profumo! Very good! Mmmmm! 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 Very nice! Number one! Yeah! Number one! Alla squawola! Alla squawola!